Tre trasferte, tre sconfitte consecutive per l'NPC, ultima quella del K.O. Legnano che ha visto la squadra di Nunzi crollare sotto i colpi del quintetto Lombardo. Vuoi le ottime performance degli avversari, vuoi gli arbitraggi giudicati non sempre ottimali dal patron Cattani? È un dato di fatto che l'enturaggia, ma tanto celeste fuori dalle mura mica del Palace Journal, non riesce a scalare la classifica. Invertire la rotta sarà necessario per poter proseguire a testa alta il campionato, dimostrando di essere all'altezza della sfida intrapresa in Serie A2. Domenica sul parquet Reattino arriverà l'Eurobasket Roma, a reduce della vittoria, su Casal Monferrato. Sarà in grado l'NPC di riscattarsi? La squadra Amaranto Celeste potrà contare sul classico sesto uomo, e cioè quel pubblico amico che non fa mai mancare il proprio sostegno nei momenti più importanti. Sarà anche una sfida per capire le eventuali criticità della formazione reatina. D'altra parte è stata messa in piedi una squadra con le finanze che si avevano a disposizione.